Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Si parla sicuramente di Totti Blasi perché ne abbiamo visti tutte e due belli pelli nell'immagine, ma c'è una novità che non era aspettata da tutti quanti noi, subito dopo questo tutto, questo caos della separazione. La coppia è al lavoro per mettersi alle spalle il matrimonio, trovando la quadra giusta e proseguire la loro vita senza intoppi e senza troppi casini anche secondo me. Ma l'ultima notizia emersa in queste ore fa presagire il peggio ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire. Un colpo di scena che rischia di compromettere tutto e che potrebbe preannunciare non pochi problemi e quindi l'attenzione mediatica si sposta su di loro e può raggiungere massimi livelli anche nei prossimi mesi, quindi significa che ne riparleremo. Sembrava tutto fatto per qualcosa che avrebbe permesso a Ilari Blasi e Francesco Totti di vivere questa separazione in una maniera abbastanza normale. Invece ora sarebbero cambiate le carte in tavola e l'epilogo più brutto sarebbe ormai dietro l'angolo. Certo, mancano delle conferme, come al solito, quelle ufficiali, dei diretti interessati, ma il magazine oggi è riuscito ad avere in anteprima un'informazione scottante che ha lasciato i fan di entrambi a bocca aperta e adesso la situazione è tutta in divenire e il mistero su ciò che accadrà regna ancora sovrano. In pratica, come è stato svelato anche nei giorni scorsi, Ilari Blasi e Francesco Totti avranno un primo step sulla separazione il prossimo 14 di marzo, quando in tribunale ci sarà l'udienza che riguarderà loro. Recentemente era anche emerso qualcosa di molto distensivo che aveva aperto le porte ad una soluzione importante e anche rassicurante per tutti e due. Ora, qualcosa sembrerebbe cambiato e il risultato finale è decisamente preoccupante, ma capiamo un attimino cosa ha anticipato il magazine. In pratica, durante le vacanze di Natale, gli avvocati Ilari Blasi e Francesco Totti avrebbero avuto alcuni incontri per poter giungere a una risoluzione pacifica alla separazione per non combinare troppi casili. Ma, sorpresa, un accordo non sarebbe stato raggiunto e questo potrebbe far naufragare tutto quanto. Sempre secondo il magazine, a far cambiare idea a Ilari sarebbero state alcune segnalazioni all'antiriciclaggio per dei bonifici dell'ex marito. Ovviamente per questo bisognerà attendere conferme, ma adesso ci sarebbe soltanto una strada di fronte a loro. In pratica, a causa del mancato raggiungimento dell'accordo, per Ilari Blasi e Francesco Totti si profilerebbe una lunga e sofferta battaglia giudiziaria. Poi, per carità, che ci fosse comunque stata, questo è un altro paio di maniche, ma la speranza c'è ancora di uscirne velocemente e per ora invece questa opportunità si sarebbe un attimino arenata. Quindi non ci resta che attendere nuovi sviluppi per capire cosa succederà, tanto ormai manca poco più di un mese, ci siamo. Per quanto mi riguarda è tutto, un salutone da Max, ci sentiamo alla prossima, passate una buona giornata.